Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con a voi la linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo da Udine che si prepara a celebrare la giornata della memoria con un grande evento nel Centro Culturale delle Grazie organizzato dalla Prefettura di Udine e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Presenti il professore Andrea Zannini dell'Università di Udine e Paola Del DIN, medaglia d'oro al Valor Militare che dialogherà con gli studenti. L'evento è stato presentato a Udine dove per noi c'è Marco Pasquariello. Buongiorno da Udine, buongiorno dalla sede di rappresentanza della Prefettura di Udine in piazza Primo Maggio dove è da poco terminata la presentazione delle celebrazioni per la giornata della memoria del 2022, il 27 gennaio, quindi giovedì prossimo. Giovedì di questa settimana appunto sarà il giorno della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, le vittime della deportazione nazista che ha visto Udine tristemente protagonista perché ha visto molti suoi cittadini perdere la vita appunto in quelle terribili giornate, in quelle terribili occasioni, tra cui uno che era stato sindaco di Udine, Elio Morpurgo, purtroppo che nei campi di concentramento non ci arrivò neanche perché morì lungo il tragitto e la cui Salma non è più stata ritrovata. Udine si prepara a celebrare questa ricorrenza del 27 gennaio con un evento che sarà nell'auditorium delle Grazie di Udine che Telefriuli trasmetterà d'accordo con il Comune di Udine, con la consulta degli studenti e con appunto la Prefettura di Udine che in questo momento ci sta ospitando. Andiamo a sentire ora le voci di chi ha presentato questo evento partendo dal Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Prefetto Marchesiello, il 27 gennaio, giornata della memoria, è una ricorrenza a cui Udine è molto legata perché ha avuto diversi cittadini illustri che purtroppo sono morti in quelli terribili anni della deportazione della Shoah e anche per il 2022 Udine si prepara a una celebrazione importante. Sì, abbiamo dovuto ovviamente limitarci e soprattutto con i ragazzi abbiamo lavorato e anche grazie alla vostra emittente televisiva assicureremo probabilmente una diretta che per noi è fondamentale perché il messaggio, quindi le testimonianze sia storiche quindi con rievocazione e inquadramento storico del Professor Zanini e in particolare con la testimonianza diretta di chi ha vissuto per esempio un secolo di vita, un secolo molto importante per la nostra storia, la Professoressa Paola Adeldin che tra l'altro è stata alunna dell'Istituto dello Stellini che ci accoglie in parte. Quindi per noi è un momento doppio, ovviamente abbiamo dovuto ragionare con una limitazione di presenze ma presenze che dovrebbero essere stimolate e stimolanti per chi poi farà dal relatore. Per mantenere sempre viva la memoria di queste cose che non si possono dimenticare non è giusto dimenticarle. Assolutamente no ed è anche assolutamente ingiusto fare confusione come si sta cercando di fare in questo periodo tra due momenti storici assolutamente diversi. Su questa cosa siamo chiari tutti ma credo che sia inutile la riflessione in questo momento. Lei ha parlato di quanto sia importante l'inquadramento storico infatti che ci sarà anche nell'evento appunto di giovedì 27. Sì c'era la testimonianza storica del Professor Zannini che farà inquadramento e sicuramente anche lui sarà sollecitato e stimolato da alcune domande perché i ragazzi devono capire e sapere perché si è arrivato a quel punto di rottura con la civiltà occidentale di cui io. Assessore Cigolotti il calendario che il Comune di Udine ha organizzato per celebrare questa importante ricorrenza molto importante in particolare per la città di Udine è molto ricco, ci saranno anche la posa di alcune pietre d'inciampo anche se non subito, anche se non il 27 e poi appunto questo grande evento organizzato insieme alla Prefettura, insieme agli studenti. Sì è un grande evento, partirei da questo per il quale l'amministrazione ringrazia il signor Prefetto e tutto il mondo della scuola, lo Stellini, l'Ufficio Scolastico Provinciale certamente perché purtroppo l'evento che proprio questa mattina avrebbe riempito il palamostre di allievi delle scuole superiori cittadine, causa la pandemia, causa la situazione che tutti conosciamo, è stato rinviato al 3 di marzo, lo faremo il 3 di marzo sperando che per quel periodo lì il peggio sia passato. Però abbiamo altri momenti significativi come la posa delle pietre, delle pietre d'inciampo, nove pietre d'intesa con la questura, con l'associazione della Polizia di Stato qui della provincia di Udine, abbiamo deciso di dedicare la prosecuzione di questo progetto che l'amministrazione cittadina, proprio per volontà del sindaco, il professor Pietro Fontanini ha avviato un paio di anni fa, della posa delle pietre d'inciampo e quindi queste nove pietre d'inciampo saranno poste nella sede dell'ex questura da dove vennero prelevati e poi trasferiti nei campi di concettamento dove purtroppo morirono, nove poliziotti, i nuovi appartenenti alla Polizia di Stato nei drammatici frangenti di quegli anni 43-45 e la questura quella volta aveva sede nell'attuale sede del Conservatorio su Via Treppo, quindi qui è proprio a due passi da dove parliamo quest'oggi e la mostra che presenterà questo progetto verrà inaugurata sabato prossimo alle ore 11, sabato 29, alla presenza del signor questore, del signor prefetto e ovviamente del sindaco. Presenteremo la mostra in Palazzo Morpurgo, che è anche un bellissimo volume che dà conto di questa tragica pagina della storia cittadina, della storia di questo nostro Friuli e invece la posa si farà non appena il capo della Polizia potrà raggiungerci qui in città perché è un'iniziativa di grande valenza, anche nazionale appunto. Per questo io mi permetto di rinnovare e ringraziamente la dottoressa Bernardin questore della città di Udine. Poi avremo altre presentazioni di libri, sia il 27 che il 28 in Sala Iace, libri e dialogo che consentiranno di approfondire con delle persone particolarmente qualificate alcune vicende che legarono appunto, che si svolsero, che coinvolsero cittadini friulani nella deportazione e purtroppo anche nelle pagine più tristi, insomma, legate a questo fenomeno della deportazione. Ne parleranno il presidente dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, Marco Balestra, con il professor Fulvio Luzziconti e poi ci sarà anche la presentazione di un libro appunto da parte dell'autrice, la casa editrice Morganti, qui della Cania, insomma, di Tolmezzo. Ecco, quindi tanti tanti momenti che consentono di sottolineare ancora una volta l'impegno dell'amministrazione cittadina nel coltivare queste pagine di storia. Come diceva Primo Levi, comprendere è impossibile, però conoscere è fondamentale. Ecco, questo è un po' un motto che ispira la nostra azione e ringrazio tutte le varie realtà, associazioni, mondo della scuola, istituzioni che con noi collaborano e consentono, come dire, di sviluppare questo progetto. Lo sviluppiamo anche, come dire, con difficoltà, però consentitemi, ecco, ne approfitto di questa intervista per ringraziare anche gli organi di informazione e Telefriuli in particolare, perché comunque danno spazio a questa nostra iniziativa e consentono di portare nelle case questo messaggio, che è un messaggio di cultura, un messaggio di umanità, un messaggio di civiltà. A Pordenone sono state posate questa mattina quattro pietre d'inciampo nel quartiere di Torre per ricordare altre tante vittime dell'olocausto, viste dalla giornata della memoria di giovedì. Altre saranno collocate in città, a Sacile e Maniago nei prossimi giorni. Un progetto che vede in prima fila il liceo Majorana, che ha ricostruito assieme a Comune e Aned, le storie delle persone uccise dalla follia nazifascista. Anche quest'anno il liceo Leopardi Majorana è impegnato con questo progetto delle pietre d'inciampo, la dirigente Rossanna Viola, per quanto riguarda insomma quello che è stato questo segno dato dai ragazzi oggi. Sì, anche quest'anno i nostri studenti del triennio di tutti e tre gli indirizzi hanno partecipato con le loro diverse competenze a seconda dell'indirizzo di studi e del percorso svolto alla realizzazione e ancora una volta la prosecuzione di questo importante progetto che ormai è al suo quinto anno di realizzazione ed è seguito dalla supervisione delle professoresse Corelli e Pettarin, anime del progetto in realtà. Sono cinque anni e i nostri studenti sono impegnati direttamente in prima persona allo studio e alla realizzazione di nuovi materiali, per la realizzazione di queste pietre, per la costruzione e la prosecuzione di questo che ormai è un museo alla memoria diffusa. Insomma una prima tappa oggi a Pordenone, però nei prossimi giorni saranno coinvolti altri territori del fluo occidentale. Sì, infatti da quest'anno sono entrate nel progetto anche le amministrazioni comunali di Maniago e Sacile con le loro scuole e partecipano con la posa di altre pietre e quindi continua questa costruzione del museo diffuso, della memoria diffusa. Gli studenti dimostrano sempre ogni anno di partecipare sempre con maggiore interesse e anche con coinvolgimento particolare entrando nella vita in queste storie. Assolutamente sì ed è notevole come si impegnino nella ricerca non solo delle notizie riguardanti le vittime del nazismo e del nazifascismo ma anche nella ricerca dei parenti, ricerca che spesso è molto complicata. Insomma un progetto importante che ha coinvolto anche quest'anno il liceo Leopardi Majorana di Pordenone e voi studenti, ecco per non dimenticare, insomma che lavoro avete fatto? Allora abbiamo iniziato le ricerche su Arturo Biasutti e inizialmente abbiamo ricevuto dei fogli di famiglia da cui abbiamo preso le maggiori informazioni e piano piano con le ricerche siamo andati avanti fino a ricostruire tutta la storia di questo personaggio. Un insegnamento importante è quello che vi rimanda a questa ricerca? Sì sì, è un pezzo di storia che non possiamo dimenticare e che bisogna sempre ricordare per non rifare lo stesso errore. Quindi tanti impegnati ecco tra voi studenti, ecco vi siete anche confrontati su questi temi? Sì sì assolutamente, io e Enrico ci siamo sempre confrontati e anche tra di noi ci aiutavamo per capire meglio la situazione e anche chi era più vicino in un punto dove potevano esserci altre informazioni e quindi ce le scambiamo tra di noi per rincontrarci. E il signor Vladimir, lei è il genero del signor Arturo? Sono contento di vedere tanti giovani che mantengono viva la memoria. È importante, un segnale importante? È molto importante, è molto importante perché quelle brutture là non vengono più. Se non ci sono le nuove generazioni che mantengono la memoria e il ricordo c'è il rischio che le cose si ripetano. Assessore Parigi, questa prima posa delle pietre qui a Pordenone ce ne saranno altre, ma insomma anche il Comune ci tiene particolarmente a questo progetto. Sì, è un progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa, che oggi continua e che vogliamo proseguire perché riteniamo che sia un modo vivo di ricordare non solo la cerimonia istituzionale e rituale, ma utilizzare questo meccanismo di questo grande museo a cielo aperto per ricordare le vittime della Shoah. Oggi ne ricordiamo qualcuna qua di Pordenone, ma simbolicamente le ricordiamo tutte. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Sono stati presentati questa mattina in sala IAC a Udine i risultati del progetto Interreg con l'Austria. Look Up, una guida sul cammino della cristianità più antico d'Europa. Ha seguito la presentazione per noi Isabella Gregorato. Un saluto ai nostri amici telespettatori. Mi trovo in sala IAC dove è appena stato presentato il progetto Look Up, o perlomeno quello che sta portando in sostanza il progetto Look Up, un progetto che coinvolge anche la vicina Austria. Ne parliamo con l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot. Intanto siamo arrivati alla stesura praticamente di un volumetto che illustra tutto questo percorso. Un percorso che mette al centro i Friuli. Mette al centro i Friuli e lo collega al Tirolo orientale, che sarebbe la propagine che confina con la Carinzia, e alla provincia di Vicenza. Questo perché il progetto è nato grazie alla collaborazione che già a suo tempo era stata avviata fra la provincia di Udine, preseduta dal sindaco Fontanini, allora presidente della provincia, con queste altre realtà che aveva portato alla costituzione di un progetto molto interessante, che peraltro si era conclusa e adesso viene rinnovato, viene stato rinnovato grazie a questo fortunato appunto progetto presentato nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria, e che vede tutta una serie di interventi molto importanti. Non mi soffermo sugli interventi, però è importante questa guida che oggi viene presentata, perché documenta sotto il profilo storico, artistico e anche di promozione turistica l'ampiezza e la profondità dei legami che uniscono questi nostri territori. Quindi si parte da Aquileia, si attraversa la città di Udine, e poi si sale lungo la Carnia, si valica Monte Croce Carnico appunto, e si scende nella valle del Gail. E qui troviamo tutta una serie di realtà e di momenti storici che saldano questa nostra tradizione di rapporti. Ecco, tra l'altro troviamo anche delle affinità, perché ad esempio Attila distrusse non solamente Udine, ma anche... Sì, ma questo è un dettaglio, insomma. Ma questo è tanto per capire effettivamente che legame c'è. Abbiamo sempre vissuto, ma perché nelle miniere di quell'area lì del Tirolo occidentale, Liense eccetera, si scavavano e si trovavano minerali che poi venivano esportati e arrivavano fino a Aquileia per essere imbarcati, per dire, ecco, questo, questo, i confini sono delle realtà che ha creato l'uomo. Però naturalmente... Poi dobbiamo anche evidenziare il fatto che questo percorso illustra una realtà storica importante, ossia Udine, Aquileia, fanno parte di un cammino che nasce mille anni prima, almeno migliaia di anni prima rispetto a quello di Santiago. Sì, 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 perché Aquileia veniva vista come una meta dei cammini religiosi che provenivano dall'Europa posta più a nord settentrionale e l'Europa di mezzo. Quindi tutta l'area che oggi possiamo definire facente parte della Polonia, della Cecchia, della Slovacchia, eccetera, confluivano verso Aquileia, vedevano in Aquileia la meta del pellegrinaggio. Poi sono nati i pellegrinaggi Roma, importantissimi, Gerusalemme, tutto quello che sappiamo. Però dà l'idea di quanto fosse importante il ruolo di Aquileia in quel periodo storico, che è proprio degli albori del cristianesimo, parliamo del IV-V secolo. Quindi ben prima, mille anni prima, del cammino di Santiago di Compostela, per dirti. Ecco, questo è un po' il concetto. E poi è importante quello che diceva lei, che Udine attesta la propria presenza, con tutta una serie di siti e di vicende all'interno di questo progetto che valorizza i pellegrinaggi religiosi, che sono destinati a prendere, io credo, sempre più spazio, significato, non solo per i significati intrincizi, ma anche per il contatto che consentono di offrire nei confronti di una realtà estremamente ricca che va conosciuta attraverso quelle forme di turismo lento che stanno prendendo sempre più prede e che anche in questo periodo di pandemia ci fanno scoprire la ricchezza di quello che abbiamo proprio sotto casa. L'educandato statale Collegio Cellis ha ottenuto l'autorizzazione per ampliare la sua offerta formativa con il liceo quadriennale delle scienze umane. Vediamo. Si apre la possibilità per gli studenti dell'educandato statale Collegio Cellis di concludere il percorso liceale un anno prima, allineandosi alla maggior parte dei paesi europei con un percorso quadriennale che potrà contare sulla consolidata didattica laboratoriale già attiva in tutti i licei presenti all'Uccellis. Una bella soddisfazione per il dirigente scolastico Anna Maria Zilli pronta a raccogliere anche questa nuova sfida in linea con l'apertura internazionale che da sempre caratterizza l'istituto e la sua utenza. Un progetto sperimentale, innovativo, che con settembre del prossimo anno accoglierà i nuovi iscritti. Si tratta del percorso di liceo quadriennale e l'indirizzo è il liceo delle scienze umane. Perché abbiamo raccolto questa possibilità? Perché crediamo importante formare i formatori e dare la possibilità ai ragazzi che si impegnano e sono motivati di raggiungere prima il traguardo di un diploma che comunque è valido a tutti gli effetti che il Ministero riconosce per le iscrizioni a qualsiasi facoltà universitaria oppure l'inserimento in contesti lavorativi. La novità sono i contenuti ed il taglio anche metodologico. Ci sono ore laboratoriali, ci sarà un tempo scuola che riguarderà la mattina e il pomeriggio, quindi diciamo più ore a scuola, ma in modalità diversa, più interattiva e le tematiche che andranno ad abbracciare l'ecosostenibilità ambientale, l'educazione alla salute, al benessere, ma soprattutto tutto quello che riguarda gli obiettivi dell'agenda 20 e 30, quindi tematiche di stretta attualità e di importanza sociale per il futuro di tutti noi. Per chi fosse interessato, entro quando può iscriversi? Allora, noi abbiamo previsto intanto due incontri per parlarne, per illustrare bene il quadro orario, tutte le mani per martedì 25 gennaio, sempre alle ore 18 e sempre online. Sul nostro sito metteremo il link per chi desidera partecipare. Le iscrizioni scadono il 28, quindi ci sono ancora alcuni giorni per approfondire questa possibilità e appunto segnalarsi e di iscriversi. E quali sono le sue aspettative, guardando anche il panorama odierno scolastico? Ma a me fa piacere che i nostri ragazzi, che sono veramente degli studenti eccellenti, possano terminare prima per essere competitivi in un contesto europeo e internazionale. E poi abbiamo visto in questi anni come manchino tante competenze in un settore del benessere, delle relazioni, della cura della persona. Quindi questo indirizzo un po' a 360 gradi va a coprire queste esigenze. Quindi io credo molto in questo indirizzo, spero venga capito e venga raccolto anche dai giovani, dai nostri ragazzi. Potrebbe esserci una maggiore opportunità occupazionale? Ma credo proprio di sì, perché vediamo come in un settore biomedico per esempio manchino delle professionalità, nell'ambito psicologico manchino delle professionalità. A livello di docenti manchino tantissime figure professionali che stiamo adesso a fatica cercando. E quindi questo percorso del liceo scienze umane abbreviato andrà a coprire queste esigenze. Questa mattina sono riprese le lezioni al centro di formazione professionali del Bearzi a Udine. Hanno fatto il loro ritorno a scuola gli studenti delle quarte che hanno appena terminato il periodo di stage, in particolare i compagni di Lorenzo Parelli che proprio l'ultimo giorno di stage ha perso la vita nell'infortunio all'Auzzacco. Ci colleghiamo in diretta con Isabella Gregorato che si trova all'esterno del Bearzi. A te la linea. Grazie Alexis. Qui al Bearzi nessun commento. L'istituto si è chiuso in un dolore immenso per questa tragedia. Ricordiamo che appunto Lorenzo Parelli frequentava qui il quarto anno nel settore della metalmeccanica industriale, nel percorso duale del centro di formazione professionale. Aveva già svolto anche varie esperienze di stage in azienda. Oggi sarebbe rientrato a scuola insieme ai suoi compagni. Da quello che appunto abbiamo raccolto qui al Bearzi, sappiamo che al rientro dallo stage i ragazzi si sono raccolti questa mattina, hanno fatto come sempre, perché c'è sempre un momento di raccoglimento, tutti i giorni per tutte le classi che sono qui all'interno della scuola. C'è il momento per la preghiera, ma oggi la preghiera è stata particolare, ha avuto un significato soprattutto nella sua classe. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare che un minuto di silenzio è stato osservato non solamente qui in questa scuola, ma in tutti i centri di formazione professionale. Ancora da quanto abbiamo appreso qui al Bearzi, la grande sfida è soprattutto in questo momento di aiutare i giovani, di aiutare i giovani anche nei momenti più drammatici, far capire loro che la vita è fatta purtroppo di questi momenti e dobbiamo accogliere da queste situazioni il senso della vita nonostante tutto. Qui al Bearzi sono ben 1200 le famiglie coinvolte che oggi si sono strette nel dolore, che da giorni si sono strette nel dolore. Sono 1200 le famiglie suddivise nelle scuole, nella scuola dell'infanzia primaria e secondarie di primo e secondo grado. e proprio la sfida degli insegnanti, di tutto il corpo docenti, è fare in modo che qui a scuola si possa continuare appunto a lavorare, a studiare. È un'attenzione particolare anche agli insegnanti che sono molto motivati e che si sentono bersagliati nonostante vogliano il bene di questi giovani. E qui dal Bearzi è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato, insieme a Simone Caramaschi per questo collegamento in diretta da Udine. Grazie a voi per l'attenzione. L'informazione ritornerà in diretta alle 16.30. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!